Ciao a tutti per intornarvi sul nostro canale! Prima abbiamo fatto una diretta mentre mangiavamo e vi abbiamo chiesto quali video vorreste vedere. Noi faremo la valigia challenge che è un video di memoria. Che ci avete consigliato? Ok, allora vi mettete tutte dietro, sedute là. Chi vuole iniziare? Allora Catalina inizia e fa il primo elemento. Ruota, magari con un arrivo più bello era bella. Melli, devi fare quello che ha fatto la Cata e poi aggiungere una cosa. Vai! Ruota, verticale. Gli arrivi li facciamo un po' più belli con le braccia in alto. Sofi, ruota, verticale, rovesciata. Tutto acro. Potete fare anche salti, roba di scioltezza. Non tutto acro, sennò vi morite dopo un po'. Vai! Ruota, verticale. Rovesciata. E' un po' più bello. E' un po' più bello. Si sono. Sembrava più un po' più bello. Non lo sapevo. Non lo sapevo. Spaccata. Ma ti guardate con quella gamba? Ricordatevi perché io non mi ricordo più. No, con la vostra gamba preferita. Non lo ho spattato tutto. Io no. Ruota. Verticale. Rovesciata. Si sono. Spaccata. Cosacco. Ruota. Verticale. E devi aggiungere. Flick. La Melissa, visto che l'ha appena imparato, cioè lo sta imparando, vero? Per il flick può andare sul buchino piccolo a farlo. O se no, chiami la maestra Clelia che ti fa assistenza. Decidi tu. Beh, lasciala fare. Si che la sa fare la rovesciata. Pianino, pianino. Fai il ponte e vado di là. Ok. Spaccata. Spaccata. Si sono. Sbagliato. Melli eliminata. Vieni qua da me. Vuoi fare comunque vedere un flick? Lo stai imparando? Eh? Dai, vai sul buchino e facciamo vedere un flick. Ok. Stai imparando il flick. Ah, chi toccava? Sofì. Aspettami, eh. No, io ho paura. Vai, Sofì. Ruota. Verticale. Cosacco. Flick. Rondata. Dai, Chiarina. Forza. Sì. Vai indietro. Spaccata. Cosacco. Flick. Flick. Presalto, rondata. Cosa aggiungiamo? Ruota senza. Signorina Chiaro, sei pronta? Sì. Vai. Ruota. Verticale. Io mi sono già scordata tutto. Rovesciata. Sisson. Cosacco. Flick. Rondata. Ruota senza. Ruota senza. Ok. Vai. Ruota senza. Ruota senza. Spaccata. Sì. all'ondata ruota senza è giusto? non c'era qualcosa in mezzo? ok i giambi cosa aggiungiamo? oh si facciamolo un po' meglio dai facciamolo meglio un giro ok Kata Chiara è difficile ricordarsi tutto dopo un po' cosacco flick ronda vabbè ronda ronda senza jambè faccio disperata della gata giro no salto del gatto con un giro prova ruota verticale rovesciata si sono spaccata cosacca flick aia io non mi ricordo più rondata ruota senza senza vabbè la sfida è di memoria anche se non viene benissimo è lo stesso le jambè un giro dai fate una capriola una capriola indietro qualsiasi cosa ah gli manca una cosa ah si gatto un giro fa il riballo chiara concentrati ok spaccata cosa cosacco flick anche tu vabbè ronda ronda che brutto lo puoi rifare chiara lo puoi fare decentemente dai c'era questo e mi ricordavo un'altra cosa ma oddio che problema questo gatto un giro impennata aggiungi no una cosa difficilissima posso farlo tanto però andata flick chiara vai chiarina si sono spaccata flick oddio rondata non mi ricordo cosa c'è dopo vai ruota senza giambè giambè un giro e un quarto un giro no l'ha fatta l'ha fatta gatto un giro impennata impennata vabbè rondata flick cosa aggiungiamo carpio vai chiara no chi tocca maria vai mi eravate messe sedute diverse mi sono già dimenticata l'ordine ruota verticale rovescia sbaccata sbaccata cosacco aia non guardare me perché non mi ricordo voi tutte zitte non si suggerisce questo il gioco non si suggerisce prova a farne uno se è giusto è giusto sbaccata non vi suggerite 10 9 8 7 conto io 6 era giusto dopo il cosacco dopo il cosacco flick niente mary eliminata insieme a melissa andiamo avanti vai kata ruota verticale rovesciata sisson spaccata cosacco flick brava kata ti vedo carica rondata ruota senza ruota senza e jambe un giro gatto un giro no 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 chissà che hai suggerito sei una gran salama vuoi che vincano gli altri no 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 vai kata rondata fli brava carpio e aggiungi capriola capriola saltata tipo fatta un po' male fatta un po' male mai fin dove ti ricordi ruota verticale rovesciata risciata si san spaccata cosacco fli rondata rondata dove vai 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 ruota senza ma va beh ruota senza dan da 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 dieci nove otto sette sei Cinque C'era le giambe giusto? Eliminata Sofì Rotola via da qua Vai Ruota Verticale Rovesciata C'era il season No lo so Aspetta Perché nel season devo aprirlo No nana fregona È vero Hai fatto la spaccata Sì ma non la so Così Ti giuro che volevo Non vale Vero comunque volevo fare il season Un season per terra No volevo Catalina l'avete lasciata lì perché l'avete suggerito Se no era già eliminata Che fur Sì ti stavi dimenticando l'impennata Verticale Rovesciata Season Spaccata Cosacco Flick Dieci Nove Otto Sette Sei Cinque Giusto? Rondata No sta facendo Sta zitta tu Ruota senza E jambe Dieci Nove Nove Otto Sette Sei Cinque Quattro C'era il giro? Non mi ricordo Credo C'era l'impennata Prima del giro No 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 Prima c'era il giro Secondo me Per me è giusto Giro Gatto un giro Sì va bene Secondo me Impennata Giusto? No C'era rondata Flick No e c'era Rondata Flick e Carpio Ti sei scordata La campionessa di questa sfida di memoria è Caterina Brava Cata Ci rivediamo nel prossimo video Ciao Non ho detto ciao